eccoci qua nel post partita di Sampdoria 1 Juventus 3 oggi bisogna vincere lo sapevamo è un ritornello bisogna sempre vincere però quando entri in questo momento qua nella stagione secondo me fare punti e fare risultato anche in trasferte che possono essere complicate come questa è quanto più positivo possibile soprattutto perché tra tre giorni giochiamo la Champions quindi un mi piace ragazzi a questo video scaricate OneFootball link per scaricarlo è qui sotto in descrizione per capire chi giocherà comunque contro il Villareal chi recupererà per le prossime partite dobbiamo capire un po' di tutto e per leggere le parole di Massimiliano Allegri e di tutti gli altri protagonisti magari anche Scesni che anche oggi ha parato il rigore e direi che ci ha fatto esultare e non poco e dato che ci avviciniamo alla Champions e dato che mancano tre giorni alla Champions oggi voglio mettere il dito nell'uovo per cercare il pelo e tirarlo su perché io credo che più ti avvicini a questi appuntamenti più arrivi a queste partite e più non devi più limitarti a ma devi veramente cercare non dico la perfezione ma di perfezionarti di migliorarti e quindi prendo al primo posto il risultato come deve essere come sarà sempre sono contentissimo di aver vinto fantastico oggi la Juve ha fatto una partita normale ha giocato ai minimi probabilmente per portare a casa il massimo disponibile c'è riuscita e ha fatto una partita non terrificante oggi secondo me la Juve ha fatto una bella partita di possesso palla non ci sono state tante azioni non siamo riusciti a convertire tante volte verso lo specchio della porta ma ci portiamo a casa assolutamente il fatto che di sofferenza non ce n'è stata tantissima se non nei minuti finali perché ecco qua che entriamo abbiamo regalato le azioni da Sampdoria gliele abbiamo proprio regalate il rigore regalato regalatissimo dal niente in un momento in cui eravamo completamente in gestione della partita calcio di rigore e un calcio di rigore ti riapre la partita per fortuna che Cesni l'ha parato la punizione che abbiamo regalato perché dobbiamo regalare questa punizione qui? e infatti ci puniscono e ci fanno gol e ci danno la possibilità si danno la possibilità di riprire una partita che era completamente morta perché noi andiamo 2-0 a fine primo tempo concludiamo il primo tempo addirittura con un tiro quindi attaccando iniziamo il secondo pressando poi abbiamo 10 minuti un po' di sbandamento poi torniamo completamente dentro la partita e Allegri vuole queste cose vuole la gestione del risultato vuole la gestione della vittoria l'Avento sta vincendo di due bene andiamo avanti con questa storia però poi sa che ci sono gli imprevisti e allora sa che bisogna rimanere dentro la partita noi non siamo ancora perfetti a fare questo e purtroppo avvicinandoti a questi appuntamenti di Champions in cui il livello si alza di smisura perché non prendiamoci in giro il livello della Champions rispetto a quello della Serie A è come giocare un altro sport è un altro gioco e noi andiamo a regalare andiamo a regalare queste cose e a me non va bene a me sinceramente non va bene sono cose che non vanno bene per forza di cose non vanno bene nel mentre che ti avvicini quindi noi abbiamo queste cose qui da migliorare perché sappiamo che la Juve non andrà mai a migliorare sotto il profilo del gioco non sarà mai spumeggiante non sarà mai emozionante come il City di Guardiola non sarà mai quel tipo di squadra però se non miglioriamo in queste cose qua in queste piccole cose qui che piccole non sono purtroppo su una squadra che come la Juve ne fa il perno è l'albero portante per la Juventus è la colonna portante questa roba qui se ancora a marzo riusciamo a rimettere noi in partita agli avversari allora capisci che le cose non vanno proprio bene poi per dire il gol dell'1-0 nasce da un autogol è vero ma è un autogol che viene forzato perché Yoshi da un certo punto deve scegliere o interviene o c'è Keanu a porta vuota la Juventus ha fatto un ottimo ripartenza un ottimo scarico di Keanu un'ottima palla di Morata da allargare per quadrado l'ottimo cross di quadrado e Keanu senza una posizione perfetta Yoshida deve far quello poi magari poteva andarci con l'altro piede cercare di spassare in un altro modo ma lì stiamo veramente parlando la frazione di secondo ragionare che dietro c'hai il giocatore che verosimilmente con il cross perfetto di quadrado si ritrova semplicemente a impattare buttare dentro quindi non dico perfetta perché non è stata una partita perfetta perché hai preso gol gli hai rimessi in partita Vlaovic non ha preso il cartellino giallo anche oggi non hai avuto l'opportunità la possibilità di essere tranquillo sul finale di partita tanto da poter mettere dentro i ragazzi dell'under e far rifiatare tanti giocatori che magari hanno bisogno di staccare un po' la spina soprattutto appunto verso queste partite qua soprattutto appunto perché inizia a avere pochi giocatori e lo sappiamo è un momento in cui ce ne sono sempre pochi poi per fortuna stiamo recuperando recupereremo e arriveremo al post pausa nazionale con quasi tutti gli effettivi di posizione però ancora una volta è la classica partita che la vinci ma quel qualcosa da migliorare ce l'hai e poi io rimango dell'idea che nessuna partita sarà mai perfetta ogni partita sarà migliorabile perché nessuna squadra arriverà mai ad essere perfetta però per una squadra come la Juve che queste cose queste cose sono il pane quotidiano della Juventus cerchiamo di essere un po' più attenti perché davvero di attenzione si parla perché se non regali il fallo di mano in area alla Sampdoria tanto meglio perché se non regali una punizione alla Sampdoria con degli ottimi tiratori perché la Sampa ha degli ottimi tiratori dal limite dell'aria tanto meglio perché poi sei concentrato a dover fare la partita di sofferenza per fortuna oggi comunque nonostante sia andata così tu trovi il gol del 3 a 1 che ti fa respirare ti fa respirare perché diversamente se Locatelli non alza la testa non vede Morata là sul secondo palo se Morata non la picchia sul piede di Falcone arrivi fino all'ultimo in ansia in affanno con l'acqua qui alla gola che tu fuori con la cannuccia di bambù a respirare perché rischi perché nel momento in cui tu vai a rimettere in partita gli avversari rischi poi io sono contentissimo di essere riuscito addirittura a vincere con due gol di scarto guarda qua un po' che lusso che goduria che c'è qui quanto ci permettiamo addirittura e non era facile Allegri aveva detto nel pre partita la Sampdoria da quando era tornato Giampaolo amarassi due partite sei punti sei gol fatti zero subiti quindi oggi sicuramente è una bella prova di forza della Juve che va a dettare legge però è ovvio che non è stata la partita perfetta anzi la Sampdoria è stata ragù allora un po' di rispetto la Sampdoria è stata anche molto pericolosa la Sampdoria ha fatto la sua partita assolutamente penso proprio che non si possa parlare di Sampdoria che si scansa e tutte quelle scusatemi fatemelo dire puttanate che si sentono tutte le volte che la Juventus vince anzi la Sampdoria penso proprio che abbia fatto la partita che doveva fare e poi la Juve è stata brava a vincerla la Juventus è stata veramente brava a vincerla quindi un buon test pre-atletico se è atletico Madrid ciao perché oggi è l'anniversario di quel famoso ritorno di quel famoso rimonto tra il petto di Ronaldo con l'atletico Villareal è un bel test in attesa del Villareal ma da segnarsi con la matita rossa ancora alcune cose che purtroppo il punto è questo qua vanno e tornano a seconda delle partite è un po' quello che ci è successo con l'Empoli la trasferta con l'Empoli di due settimane fa dieci giorni fa non mi ricordo quando è stata sono stati gli stessi problemi tu hai la capacità di far tornare in partita le avversarie anche nei momenti in cui tu la partita dovresti averla chiusa dovresti andare sul velluto verso la fine dell'incontro invece no le rimetti in piedi e allora un po' ti caghi addosso ed è quello che dicevo l'altro giorno in Champions il pannorone sporco di Popò no e qua e qua te lo crei da solo il pannorone sporco di Popò quindi se devo proprio portarmi a casa qualcosa è questo poi sono contentissimo della doppietta di Alvaro Morata perché era un pezzo che non vedevamo fare una doppietta di Alvaro Morata e credo proprio che si possa andare a letto felici per questa cosa adesso gustiamoci le altre partite che giocano in queste ore io non vedrò praticamente niente anzi vi registrerò le pagelle praticamente ora così a caldo quindi inconsapevole del risultato delle altre ma per il momento noi guardiamo soltanto la Juventus e guardiamo d'ora in avanti da adesso in poi l'obiettivo e il focus principale è il ritorno e ottavie finale di Champions League Grazie a tutti